Ciao amici da Sbukia Magazzone Monsaore! Non possiamo dire facci il simale, adesso è di disegno, non so perché! Sì, ascettore! Non possiamo dire facci il simale, non so perché! Sì, ascettore! Non ti dice che ci stiamo destra o adesso! No, vedi felice! Sì, alzè sì, di disegno! Sì, alzè lì! Sì! No! Sì! No! Sì! No! Sì! Lalnızca mi sistemi lavorare! NON! Paare! Sì, alzè che infatti più in due guida che Greco, ẻ che c'è, in un modo ti non riesce a venire! Lì? Alla fine, non è così! French, è lontanze! Sì, erano le giude! Lice rossi nuove sonnze! Sì! Ciao, dove stai? Stai bene, ci visitiamo, sì. Sì? Alla fine vi fanno usciti. Mi hanno apprezzo di chi sei bello e mamma. Sì, sì, vanti. Adesso devi fanno uscita. No, non lo so per uscirarmi. No. No, uscitate. No, guarda il dolore. Uscitate. 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 Uscrite. Usc testa. Usciti. Uscitate. Ma non mi ha detto Paola, hai senso di giocare? Sì, non so se diciamo così. Sì, non so se diciamo. Sì, non so se diciamo. Sì, non so se diciamo. Ma non so se diciamo. Sì, non so se diciamo. Vedete che ci vorrei sfidare? Ciao, vi fiezi. Vi fiezi con i freddi. La mia amica mi fiezi con i freddi. La mia amica mi fiezi con i freddi. Il SZ, ha scelto che ci sono fostate? Sì, non so se diciamo. Mi fiezi con i freddi! Grazie a tutti